Voglio dire ragazzi, sono bambini e signori, direttamente dalla mia cavina in Mario vi comunico che sto andando a consegnare questo bel tapire al signor Valeria Stafelli per tutte le cavolate che ha dato in questo servizio. Insomma, non vuol dire saluto, 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 non vuol dire saluto. Ci siamo, 1979, sono un po', chi sono? Ma Sandy di Grease, non sapete Stefano Bonomi, come si è coccato.